10 febbraio 1945 muore nel campo di sterminio di Dachau Giovanni Palatucci questore di fiume dal 1937 prima di venire deportato dai tedeschi Palatucci era riuscito a salvare la vita a circa 5.000 ebrei riconosciuto dallo Stato di Israele e giusto fra le nazioni Palatucci è annoverato da Giovanni Paolo II fra i martiri del XX secolo Palatucci era riuscito a salvare la vita a circa 5.000 ebrei riconosciuto dallo Stato di Israele e giusto a salvare la vita a circa 5.000 ebrei riconosciuto dallo Stato di Israele e giusto fra le nazioni